Ciao, giro questo video velocemente per far vedere come si entra nella stanza della conferenza Allora, ci sono tre crampi, sono in inglese, ma first name significa nome, ok, Lorenzo Last name significa cognome, cicetti, email address, metto il mio indirizzo email Allora, la stanza in questo caso è già aperta, quindi io entrerò direttamente nella stanza aperta e vuota Se vi state registrando avrete un link che vi viene inviato per email Potete aspettare per registrarvi, ma è meglio che vi registrate in anticipo per poi cliccare sul link che vi viene inviato per email Poi cliccate sul pulsantino sotto In automatico, ok, in automatico voi entrate nella stanza Vedete? Vi viene questo e adesso vedete questo connesso con successo in attesa dell'organizzatore Perché ovviamente la stanza è vuota Ok? È veramente semplicissimo, se avete problemi rivolgetevi a qualche tecnico di fiducia Ciao e buona giornata